Ben trovati, questo è un breve video di introduzione all'architettura dell'art nouveau. L'architettura dell'art nouveau si sviluppa alla fine del 1800 e si colloca in un periodo di passaggio tra il neoclassicismo e l'architettura moderna vera e propria. E' figlia ovviamente della rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale aveva introdotto nuovi materiali, dopo tantissimi secoli in cui i materiali utilizzati per le costruzioni in architettura erano più o meno i soliti, cioè la pietra, i mattoni, il legno per i solai. Con l'avvento dei nuovi materiali, in particolare dell'acciaio, ma soprattutto del cemento armato e quindi l'utilizzo anche del vetro in modo nuovo, si sviluppano nuove possibilità espressive e l'art nouveau sperimenta di fatto queste possibilità espressive. Quindi un pochino anche in discontinuità con quello che nel passato era stato fatto fino a quel momento. Bene, nella presentazione che in questo video che state ascoltando, ho utilizzato parte di una presentazione su questo argomento realizzato dalla professoressa Emanuela Pulvirenti e pubblicato in un sito che si chiama didatticarte.it che è un sito molto ben curato dove è possibile reperire molti materiali su questi argomenti, sugli argomenti dell'arte che sono interessanti e utili per lo studio. Bene, allora l'arte nuovo si sviluppa in varie parti, in varie nazioni europee, avendo spesso delle caratteristiche simili, ma spesso anche delle differenze anche abbastanza importanti e assume delle denominazioni diverse. Diciamo che sicuramente il denominatore comune è la ricerca del nuovo. Poi dopo ogni nazione intraprende delle strade anche un pochino differenti. In Francia viene chiamato art nouveau, in Inghilterna modern style, in Spagna modernissimo, in Germania jung and still, in Austria stile secessione, in Italia stile liberty o stile floreale. Gli elementi comuni che caratterizzano l'arte nuovo, l'arte nuovo intanto si sviluppa non soltanto in architettura ovviamente, ma anche nelle altre arti. Per quello che riguarda l'architettura possiamo dire che sicuramente gli elementi comuni sono l'uso della linea curva, l'aspirazione alla modernità, in riferimento molto al mondo vegetale. Questo è importante perché viene ricercato da molti autori. Questi principi vengono messi in pratica un pochino in tutte le arti, come dicevamo poco fa. Diciamo che in Belgio Victor Horta incomincia a sviluppare questi concetti realizzando tutta una serie di edifici dove c'è un grandissimo uso della ghisa o ferro e chiaramente del vetro, che però vengono utilizzati non solamente come elementi decorativi, ma anche come elementi strutturali. Quindi queste vetrate realizzate appunto con l'intelagliatura in ghisa o in acciaio, realizzate con delle linee curve, diventano anche degli elementi importanti che permettono il dialogo tra l'interno e l'esterno. E chiaramente per realizzare opere di questo tipo c'era uno studio molto approfondito di tutti i dettagli, anche del più piccolo. In Francia c'è Guimarra che ridisegna tutte le entrate della metropolitana. Alcune di queste sono ancora esistenti, anche qui con degli elementi in ghisa ondulati che riprendono degli elementi della natura, come spesso i fiori, e danno pronto questa immagine di elementi organici ed elementi vitali. Qui vediamo alcune tipologie di queste fermate e alcune di queste, soprattutto al centro di Parigi, sono ancora utilizzate. In Spagna invece, dove si sviluppa il modernismo, opera Gaudì. Gaudì è sicuramente una delle personalità più forti, più importanti di questo periodo, ma anche più indipendenti, creative, strose. Non è possibile incasellarlo in correnti, ma sicuramente è uno dei personaggi più importanti di questo tempo. Gaudì plasma le forme. Sembra quasi che i suoi edifici sono delle vere e proprie sculture dove c'è un grandissimo utilizzo della fantasia. Un primo edificio che possiamo vedere è Casa Milà, oppure la Pedrera. che è un edificio d'angolo, in un isolato è l'edificio d'angolo. Questo edificio nei prospetti non ha una linea dritta, ha tutte linee curve, dove c'è un grande sviluppo organico dell'edificio e dove gli ambienti interni si dilatano e sono studiati tutti i dettagli in modo super particolare. In particolare la copertura, oppure i balconcini delle facciate. È un edificio che, per i canoni di quel tempo, è una concezione completamente rivoluzionaria. Altro edificio importante, forse anche uno dei gioielli migliori delle opere di Gaudì, è Casa Bataló, che è vicino alla Pedrera. Questo era un edificio esistente. Bataló, che poi in catalano si dice Bayó, era un industriale del tempo che dà l'incarica a Gaudì di ristrutturare il suo edificio esistente su questo viale passato di Grazia, che era la via della borghesia catalana di quel tempo. Gaudì trasforma completamente la facciata esistente in una facciata organica che sembra una vera e propria scultura. Ogni piano ha delle caratteristiche sue. Il piano terra viene leggermente arretrato realizzando una sorta di piccolo portico. Il piano nobile ha delle grandi colonne che danno spazio a delle superfici vetrate, con degli archi. I piani sopra hanno tutti i balconi realizzati in modo particolare. La copertura dell'edificio è un grande pinnacolo che sembra proprio la corona di questo edificio. E anche nella terrazza, nella copertura dell'edificio, ci sono grandi riferimenti alle forme della natura. Il tutto è realizzato utilizzando molte ceramiche colorate. e tutte scaglie anche di vetro colorato che ricordano come se fossero le scaglie di un rettile. È un'opera sicuramente bellissima, ma è un'opera anche proprio di una fantasiosità molto particolare. Qui vediamo altre immagini della copertura, delle finestre. Pensate che le finestre anche interne di casa a Bayeux erano delle finestre dove non c'era una linea dritta. Tutto era curvo. E vediamo anche una vista, un'immagine in alto a destra, del cortile interno che è rivestito con queste ceramiche colorate che sono sfumate a seconda dell'intensità della luce. Quindi dove la luce è più scarsa, il colore della ceramica è più forte. Dove è il contrario, negli altri punti, in modo da poter dare questa uniformità. Altra opera importante è il Parco Güell. Il Parco Güell è un pochino alla periferia di Barcellona. È un parco che doveva, nelle intenzioni dei costruttori, essere un centro residenziale. Poi di fatto delle residenze ne sono state realizzate poche, ma c'è tutta la struttura del Parco di Gaudì che è ancora ben visibile, realizzata quasi completamente, dove qui c'è un grande utilizzo delle forme naturali. Ci sono questi porticati con delle colonne che sembrano più o nemmeno che dei tronchi. Delle immagini che vanno a riprendere sicuramente tutti animali fantastici e anche qui c'è un grande utilizzo delle ceramiche. Alcuni elementi particolari di questo parco, c'è questa grande sala di postila, entrando nel parco dopo la scalinata, dove nella scalinata, in cima alla scalinata, c'è una fontana a forma di salamandra, che è uno degli elementi più famosi e conosciuti di questo parco. Poi c'è una grande sala di postila, realizzata come se fosse un tempio classico greco, ma in modo molto particolare, con 100 colonne, anche se ne sono state realizzate soltanto 85. E questo è sotto la piazza centrale del parco, cioè questo coronato sostiene sopra la piazza centrale del parco. E nella piazza centrale del parco, intorno ci sono questi sedili sinuosi, come un serpente di 150 metri di lunghezza, che è come se fosse una lunga panchina spirale, dove, con delle ceramiche coronate, colorate fantastiche, si vanno a creare questi spazi di riposo, diciamo così, che sono intimi, ma nello stesso tempo danno una vista sulle panchine vicine e sul paesaggio di Barcellona. Ma l'opera più importante di Gaudì sicuramente è la Sagrada Famiglia, che è un'opera incompiuta, anche se i lavori stanno andando avanti. lui realizza, anche al suo grande fervore religioso, realizza questa opera, pensa questa opera, sicuramente partendo dai principi dell'architettura codica, quindi questa grande opera slanciata verso il cielo, ma con tutti questi grandi elementi naturali. Considerate che l'interno di questa basilica è stato inaugurato pochi anni fa e all'interno tutte queste colonne sembrano degli alberi fantastici e le volte hanno delle forme particolari e un effetto sorprendente entrando in questa basilica. Gaudì ha, diciamo così, pensato questa basilica e ha realizzato soltanto una delle facciate. In realtà le facciate previste sono tre, la facciata della Natività, la facciata della Passione e la facciata della Gloria. non tutte sono ancora realizzate, ogni facciata è costituita da quattro colonne e poi dopo ci sono le colonne centrali con la più alta di tutti che è la torre di Gesù che ancora non è stata realizzata, anche se in progetto di realizzarla nei prossimi anni proprio per compiere questa, per completare, diciamo, questa grande opera fantasiosa di Gaudì. Gaudì l'ha pensata anche come un'opera aperta nel senso in perpetua costruzione, nel senso che si rendeva conto che non era possibile nel corso della sua vita realizzare tutta questa opera e anche qui sostituisce l'idea della linea dritta che lui diceva era propria dell'uomo con una linea curva che anche qui viene utilizzata in ogni circostanza possibile all'interno della cattedrale perché la linea curva è la linea della natura e soprattutto la linea di Dio. Considerate che nella realizzazione di questa opera come delle opere in generale di Gaudì non è che ci sono molti disegni perché Gaudì spesso intanto mutava i progetti in corso d'opera in base a tutti i suoi principi progettuali, in base all'intuizione del momento ma lui realizzava molto dei modelli scultori e questi modelli scultori sono quelli che poi permettono di poter seguitare a realizzare questa opera avendo un'idea di come Gaudì l'aveva pensata all'inizio e considerate che anche adesso il team di architetti che sta portando a compimento questa basilica lavora ancora con dei modelli chiaramente con delle tecnologie nuove con l'inizio di strampanti 3D ma questa idea del modello portato avanti da Gaudì è diventato proprio anche il modello progettuale della costruzione attuale. In Italia il panorama è molto più vario citiamo Ernesto Basile che lavora soprattutto in Sicilia nel sud dell'Italia dove appunto non è che realizza delle opere particolarmente innovative dal punto di vista strutturale ma lavora molto sulle decorazioni interne utilizzando proprio questo stile che è uno stile floreale quindi anche qui con un rapporto tra architettura e decorazione e un rapporto con la natura. Basile realizza anche tutta una serie di arredi che hanno proprio una raffinatezza espressiva particolare e sono stati proprio anche prodotti chiaramente in questo periodo questo vale un pochino in tutte le nazioni c'è il passaggio dalla realizzazione artigianale alla realizzazione industriale per cui la progettazione degli elementi per esempio anche dal redo diventa importante per la produzione spesso a volte anche si incominciava a produrre in serie. Altro architetto da segnalare è Cesare Bazzani Cesare Bazzani realizza molte opere in varie parti d'Italia ma realizza delle opere anche a Terni ne segnaliamo alcune cioè due in realtà ne realizza molte altre a Terni di cui una è la Reggia Scuola Industriale che sarebbe l'attuale sede dell'istituto professionale a Viale Brin ecco questo edificio è un edificio che dal punto di vista strutturale non ha forse niente di nuovo un edificio realizzato in muratura di tre piani ha delle finestre un pochino più ampie ma dove lavora lui soprattutto è sulle decorazioni invece c'è un altro edificio che è la Palazzina Alterocca che si trova a Corso d'Acito a Terni dove Bazzani incomincia a sperimentare sperimenta qualcosa anche di più della singola decorazione quindi ci sono anche qui un edificio abbastanza piccolo ma incomincia a utilizzare anche la ghisa come elemento strutturale già lo possiamo vedere dai disegni a sinistra ma anche all'interno del salone ci sono dei pilastri in ghisa a doppia altezza che praticamente sono degli elementi innovativi quindi si passa non soltanto dalla decorazione aggiunta alla fine alcune espressioni dello stile floreale non è che poi hanno tantissimo di innovativo nel senso che la struttura degli edifici è spesso la stessa si sostituiscono le decorazioni che magari precedentemente venivano fatti con dei freggi neoclassici con dei freggi floreali ma Bazzani è uno degli architetti che va oltre quindi sperimenta anche degli elementi nuovi e soprattutto sono questi pilastri in ghisa e questo modo di decorare l'edificio che era sicuramente innovativo bene, vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima occasione grazie a tutti